A conti fatti qualche differenza rispetto a prima si vede ma c'è anche una grande sensazione di normalità. Ripartono i mercati cittadini con alcune modifiche imposte dal comune di Belluno per rispettare le regole sanitarie per il contenimento del contagio. A ricordare le norme basilari ci pensano i cartelli che riportano le classiche indicazioni sull'uso di guanti e mascherine, sul divieto di assembramento e sulle distanze minime da tenere. Piazza Duomo, Piazza Castello, Piazza dei Martiri, Castione e Cavarzano riprendono quindi la consueta attività sulla scorta dell'ordinanza della Regione Veneto ma con due novità. Il maggior distanziamento tra i posteggi e l'esclusione degli spuntisti ovvero gli esercenti non titolari di posteggio che solitamente si presentano il giorno del mercato per ottenere eventuali posteggi liberi. Accettati in ogni caso quelli sempre presenti negli ultimi mesi di svolgimento regolare del mercato. Per ricavare distanze maggiori in piazza Piloni alcune attività sono state disposte lungo via Flavio o Stilio. I clienti si muovono tra i banchi, osservano, attendono il loro turno, in genere rispettano le distanze anche quando può diventare più difficile. In ogni caso c'è sempre chi controlla.